allora mettiamo subito in chiare le cose ormai è cominciato l'entro con questo cappello dell'italia perché perché non ci siamo e quindi bentornati in un'altra bellissima analisi troppo stavolta di marocco francia mannaia la miseria mannaia la miseria doveva andare fine così punto gli astri sono uniti perché stanno aspettando che ronaldo perda e messi vinca questo mondiale gli astri aspettano di unirsi come dicono tutti le leggende il calcio perché momento che messi vinca il mondiale contro la francia ahimè stavamo parlando di rona francia e marocco e stavamo parlando di messi che non c'entra in testa partita benvenuti in questa recensione recensione analisi ragazzi è una partita che è finita male nel peggiore dei modi facciamo una premessa anche io non mi ricorderò mai nessun nome di nessun giocatore del marocco a parte 3 o 4 perché sono i più famosi tra cui ziec tra cui amrabat tra cui bunu tra cui quell'altro là che parlavano sempre adesso che non mi credo più vabbè c'era un altro quello che fa segnare per il gol quel stato in alto 12 metri 76 quello lì ragazzi quando ho visto subito la formazione del marocco e la formazione della francia mi sono detto ma la francia sta giocando col terzo terzo centrocampo diverso negli ultimi anni perché non giocava nemmeno con upamecano e rabiot non giocava nemmeno con pogba e cantè ma giocava con altri due tizi che ora non mi credo mai ok il punto è che ragazzi che ti devo dire vinci anche con le riserve delle riserve delle riserve chapeau c'è nel senso la squadra più forte attualmente possiamo metterlo mondialmente parlando mondialmente insomma a livello mondiale parlando è la francia purtroppo ma neanche l'argentina non che l'argentina può ammetterlo che a livello di singoli la francia è superiore perché nel momento in cui nemmeno un baperice segnare ci pensano altri giocatori tuoi che comunque fanno cose assurde quando una formazione come la il marocco subisce un gol dopo cinque minuti in quel modo lì rocambolesco già vedi che i giochi sono finiti perché loro ci mettono sempre del loro ma poi questa è stata prima partita in cui non erano loro ad aspettare l'avversario ma in cui loro attaccavano e se vi esso qualche attacco già in campionato della partita da parte del marocco ovviamente il buon loris era pronto ok purtroppo però vi devo dire che buono non ha fatto neanche tanto male quando ha preso il gol di teo perché la sua è stata l'unica cosa che poteva fare avventare su quel pallone lì poi c'erano due sui compagni in quella porta lì potevano cercare loro di prenderla al posto di lui però ovviamente il fatto non è stata la loro parte ragazzi devo ammettere che comunque loro quando si tratta di ricorrere in contropiede scattano come una cosa assurda sembrano speedy gonzessi al momento cioè è assurdo come questi gol tra secondi sono già là capisco che anche la formazione di casa o insomma l'altra formazione in marocco avesse giocatori buoni e veloci ed è vero ce li ha però devo ammettere che nessuna delle squadre due squadre partita favorita perché entrambe erano con molti giocatori assenti importanti parlavo di rabbio che è in formato super da quando era la juventus questa fine novembre ottobre parlavo di upamecano parlavo di altri giocatori del centrocampo del marocco che non ricordo mai come si chiamano quante volte vi sto ripetendo che non mi ricordo i nomi vabbè chi se frega il punto è ragazzi che non mi aspettavo una partita del genere dove tutte e due squadre la prima volta attaccavano e non si difendevano correvano in contropiede no correvano sì ragazzi è stata la prima partita e si è vista dal suo atteggiamento del marocco che il marocco ci teneva tanto a fare perché di solito il marocco faceva anche il 26 27 per cento processo palla ma faceva due gol e la portava a casa eccesso con la spagna eccesso col portogallo eccesso col belgio possiamo dire che questo dato di fatto che potasse facessero pochi tiri ma buttassero in porta ed era questa cosa importante ma nel momento in cui loro sono andati sotto ha capito che è il momento giusto di del terap parte un modo difensivo qual era il 5 4 1 e prova attaccare anche ammiato anche dei coi giocatori perché erano finiti alcuni del senso sfiniti e han provato a metterci a tutta per poter portare quella palla lì in rete non ce l'hanno mai fatta non ce l'hanno mai fatta spoiler io vi dico solo che fino al gol del 2 a 0 la partita è sempre stata combattutissima e quella palla del 2 a 1 finale che stava a entrare e altre centime da porta non è mai entrata qualche commentato ha detto non è vero mi sono detto che non è vero è proprio la giornata sfiata in cui appunto la formazione è succede e destino che succeda non giocherà e non questo mondiale sarebbe stato bello vedere una partita del genere da parte loro e vincerla ma con una squadra del genere che ti spacca il palo come ha fatto con girou che una squadra che riesce ad arginare giocatori come mbappé e ad asfaltarlo perché è un più volte messo al tappeto ma è stati molto pesanti con lui e gli hanno fatto molto male secondo me anche e secondo me comunque sarà un giocatore che fondamentale finale io vi dico soltanto che comunque la squadra del marocco ha fatto il suo dovere il suo dovere era partire in contropiede e l'hanno fatto più volte soltanto che a centrocampo ci sarà una squadra avversaria che era molto più diciamo abituata a arginare certi attacchi eppure alcuni attacchi alcuni serpentini del marocco io non ho mai visto parte l'altra parte di altre squadre purtroppo e il punto è che il marocco se si arriva fino a qua è perché semplicemente usciva sempre a andare in contropiede punto e basta e buttare in rete io capisco bellissimo che sia sul gol del 1 0 che sul gol del 2 a 0 la colpa principalmente sia di buono perché pensava per esempio nel gol del 2 a 0 che la pala andasse fuori ma non è la prima volta che vedo mi sembra che l'avesse già fatto un gol simile a Mbappé che i giocatori lasciano un giocatore quasi impossibile che possa far gol segnare perché è se se non sbaglio qualche tempo fa come sempre la francia in cui Mbappé da situazione e posizione defilatissima riuscisse a buttarla dentro la rete in questo caso quello lì che ha entrato e ha fatto subito il gol il 24enne l'unione della sorte è la stessa età di Mbappé ma non ha con la stessa notorietà questo vorrà pure dire qualcosa io vi dico solo che quella palla lì l'hanno deviata più volte ma quando la palla è arrivata quel giocatore lì era semplicemente perché la difesa non se lo cagava di striscio pensava potesse essere inutile ed era appena entrato in gioco e cosa ha fatto lui l'ha buttata in rete sul palo dove appunto c'era buono che difendeva per di più mi è piaciuto come loris e buono abbiano più volte difeso la porta mi è piaciuto come la difesa riuscisse a chiudere a marcatura a uomo la squadra avversaria ammettiamo che comunque la squadra della francia ha avuto più occasioni perché ha avuto più contropiedi più attacchi anche centrali è da parte del Mbappé stesso o di Giroud o di Griezmann perché oggi ieri era tutto fare Griezmann era lì a fare il difensore perché quella palla lì che sapeva entrare in porta chi l'ha subito scaricata fuori Griezmann quello che ha fatto non l'ha forse però che dà il pallone giusto al giocatore giusto nel momento giusto in cui poteva segnare chi era Griezmann quello che riusciva a correre in contropiede e forse tirarla o passarla era Griezmann Griezmann era tutto fare infatti appunto l'ha meritato il ruolo di giocatore fondamentale a fine partita io dico solo che Bappé ieri è stato arginato abbastanza bene però come il alentore del Marocco stesso aveva detto la partita non si giocherà solo difendere a uomo su un Bappé e pensando che per la Francia si sta soltando un Bappé l'aveva detto l'aveva detto ed effettivamente è stato questo il punto il punto è che loro non sono personaggi che stanno lì a pensare che sia soltanto un Bappé infatti erano pronti anche a difendersi da altri giocatori era un fatto però il gol di Teo Hernandez che è capitato in un modo assurdo e in sua partita e lì già ha tagliato le gambe alla squadra avversaria a differenza del Croazia che lì erano al 32esimo subire un gol dopo due minuti cinque minuti nella squadra che non aveva subito nessun gol ma che altrimenti li faceva è stata una cosa assurda vi spiego è come se quel gol lì di Teo Hernandez si è arrivato alla fine di un compimento di azione e abbia tagliato anche le gambe al portiere stesso dove aveva avuto tanta fiducia in se stesso nella squadra nella difesa e appunto la difesa se l'aveva messa a cinque il modulo era quello principalmente ma se poi si sono trasformati in un 4-3-3 o in 4-5-1 o in sì un 4-4-2 quasi è perché appunto hanno capito che dovevano attaccare e non difendersi io ho pensato più volte che sarebbero riusciti a fare il gol dell'1-1 ma non solo io tutti abbiamo pensato solo che quando arriva nemmeno quel gol lì capisci che la storia doveva andare in quel modo doveva andare così fratelli e il perché è semplice da capire quando tu attacchi lo rispara parte in contropiede e la squadra avversaria c'è la fraggia rischia di fare un gol come quello di Giroud la posizione defilatissima o la palla di controbalzo arriva ai piedi di quel giocatore la capisci che comunque l'azione c'è la difesa c'è l'attacco pure però la fortuna non gira dalla tua parte nel complesso posso dire che le azioni sono state totalmente diverse dall'inizio della partita più che altro abbiamo visto più falli e secondo me da parere personale ci dovevano essere almeno tre cartelli gialli in più sia durante le risse sia durante alcuni attacchi che hanno fatto alcuni giocatori marocco nei confronti di Mbappé perché l'hanno falciato più volte l'hanno buttato giù attualmente più volte sono scesa anche nella rissa nei confronti di Mbappé però quasi e cioè l'arbitro non era capace di sedarla totalmente e mi è piaciuta la sportività tra le due squadre perché a fine partite sono spostrate tutte e due molto comprensive e il fatto che l'attore del marocco si è andato ad abbracciare Giroud anche sul suo compagno o che appunto il champ abbia parlato con l'attore del marocco e l'abbia rincuolato dicendo di congratulazioni o che mi abbia parlato con Mbappé dicendogli avete fatto una squadra una partita assurda fa capire quanto fair pace sia stato rispetto ad altre squadre che sono in finale kof kof argentina e messi vabbè dettagli il marocco ha sempre mostrato molta posso dire rispetto verso altre squadre questo è vero mi piace questo modo di fare il possesso palla maggiore del marocco non si è concretizzato purtroppo e la palla proprio non voleva entrare perché poi c'è da ammettere una cosa più volte il marocco stava per arrivare a fare il gol del 2 a 0 per esempio quando c'era quella serpentina o quel possesso palla in area avversaria che non si è mai concretizzato lì tutti pensavamo che potessero fare il gol e invece appunto bun per fortuna sua c'era solo che appunto come continuo a ripetervi sono state azioni e istanti e che hanno portato alla sconfitta del marocco ma azioni che non sono da francia e non sono prevedibili purtroppo gol di seconda mano perché sulla parata prima di buno ci stava il gol di teo sulla parata prima o difesa prima della difesa il marocco ci stava il gol di quell'altro la del mar della francia o poi comunque devo ammettere che più volte ho visto la partita del marocco e più continuo a pensare che siano telecomandati ragazzi sembro io quando gioco a fifa di due le loro triangolazioni oltre al fatto che ho visto una cosa assurda che mi sembra fosse il tunnel che griezmann ha fatto a difesa del marocco fanno capire come il marocco si è preparato soprattutto per qualche cosa ripartendo in contropiede e segnare e non è capace di appunto mentalmente sopportare di perdere non prendere un gol dopo cinque minuti va tenere mai capitato la cosa più assurda è vedere quella francia subire la difesa l'attacco avversario in quel modo lì aspettando appunto un rilancio da parte di loris o della difesa in attacco e ci riuscivano perché sembrava che il centrocampo si dividesse del marocco e cosa facevano quelli della francia andando in profondità semplicemente quel che cercavo di dire è che era ci sono state più volte giocato di mbappé per esempio tra cinque giocatori della squadra avversaria in cui lui è riuscito in qualche modo a passarla oppure giocate da parte dei giocatori del marocco non solo di questa partita ma anche in altri tipo portogallo in cui cosa succedeva praticamente non riuscivano a passarsi a tre volte cioè faceva una bellissima triangolazione arrivano vicino alla porta la portata centrale tiravano porte molte volte tiravano e andava a una cosa bagnata un pallone bagnato anterare mai in porta purtroppo niente è stata una partita stranissima per la prima volta abbiamo visto marocco fare possesso palla cosa non è mai fatto e non concretizzare cosa non è successa e la francia subire l'avversario cosa mai successa neanche contro l'inghilterra e non concretizzare non concretizzare se non con dei colpi di fortuna due giocate e due gol con due colpi di fortuna che poteva essere anche di più se non ci fosse stato buono però vabbè a questo il calcio c'è senso non può vedere niente e se deveva in finale devi usare tutti i mezzi possibili a tua disposizione qualsiasi era un fatto niente complimenti per il marocco per essere arrivato fino a qui aveva tutto il portogallo giocato assurda e dimenticavo io pensavo e speravo che ci potessero essere più cross in questa partita ma tutte le squadre hanno provato a portare più che altro la palla in area con dei giochi di piede non tirandola perché sapevamo benissimo che le difese erano giocatori alti che appunto sapevano come tirarla via anche i calci d'angolo della francia per avu portassero dei risultati diversi e invece al fin non ha portato niente ah comunque secondo me poteva esserci un rigorino per il marocco o per la francia se non ricordo bene poteva essere fischiato e guardato il varma vabbè dettaglio non è stato fatto quindi non posso dire nulla adesso arriva la parte difficile perché secondo me la francia non voglio occupargliela ha molte probabilità di vincere questo mondiale per seconda volta consecutiva però gli aste dicono che dovrebbe vincere l'argentina per leo messi anche se vi ho spiegato che io sinceramente leo messi non lo tifo la squadra e la partita più preferisco vedere in prossimi giorni sarà quella tra croazia e marocco perché è iniziato un ciclo con croazia e marocco per croazia e marocca al mondiale e finirà con croazia e marocco c'erano e te di con due squadre che nessuno si cacava e tutti pensavano che sarebbe finissero prima la loro avventura mondiale arrivano in semifinale finale e addirittura dopo essere scontrati all'inizio vedremo chi arriverà a terza che arriverà a quarto purtroppo tra francia argentina vi dico solo che la francia ha molti giocatori e non ha soltanto leo messi invece l'argentina a leo messi e tanti altri giocatori questa è la piccola differenza una squadra gioca non soltanto di individualità che si chiama francia perché può mettere tutti i giocatori che vuoi a centrocampo in attacco e portarti la palla fino alla rete l'altra squadra aspetta il gioco di messi gioco di qualche altro giocatore che sono sconosciuti al mondo giocatori che nessuno si cagherebbe a parte qualcuno che non è una comparsa ma gli altri sono delle comparsa quanto poi per i giochi dell'argentina perché fanno tutto per leo messi e quindi sinceramente non so chi ti fare se la francia sperando cioè se vince la francia va a tre mondiali a meno un da italia se vince l'argentina pure però leo messi crona il suo sogno quindi è una sconfitta per l'italia in entrambi modi purtroppo ora che io non so più che dirvi sinceramente appunto spero che vinca la francia e messi si ritira dal calcio visto che dice che non giocherà il mondiale del 2026 anche se avrà 39 anni boh vedremo io avevo il mio parere sincero sinceramente non so come finirà però penso che la francia visto quello che ha dimostrato e visto che ha giocatori che sono anche i serie b serie c nel senso che sono le riserve delle riserve che ha portato qua al mondiale e di turax con tutte le defezioni del caso tra cui la mancanza di un magnan la mancanza di un città sia un città di un cante di un pogba di un benzemà cosa ha fatto è arrivata fino a qua rendetevi conto la squadra è totalmente cambiata e riescono comunque arrivare fino a questo punto ce la fa i complimenti la squadra invece all stars che è fatta quella dell'argentina che in realtà c'è una stanza e altra unità è arrivata fino a qua i di del calcio dicono che devo vincere l'argentina ma secondo me vince la francia purtroppo e vedremo un'altra volta vincere chi una squadra che detesto purtroppo o se accadrà il miracolo dovrò comunque servire la gente che dice le ho messi ho coronato il sogno della carriera bla 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 coi paragoni con maradona maradona è inarrivabile in ogni caso per impersonale però loro faranno i soliti paragoni o io non so che dire sinceramente e basta questi paragoni loro continuano quindi non so perché tanto italiani siamo fissati con la francia e con e con l'argentina e dicono che morito io non poti fare francia infatti non ti farò francia ma non so nemmeno se devo tifare argentina o tre volte arrivo a parlare questo discorso come avevo già spiegato di perché non mi piace questa appunto chiudiamo il discorso qua ci vediamo la prossima analisi della semifinale il giorno della finale cioè domenica sarà l'analisi di croazia marocca ciao a presto se dimenticato qualcosa ve lo dirò ma penso che ha detto tutto e mi scuso se non ricordo come nomi dei giocatori però sono umano anch'io 3 2 1 ciao